ciao amico bentornato con un nuovo appuntamento col paranormale oggi ho portato per voi dei filmati davvero spaventosi prima di cominciare ricordati di iscriverti al canale e di recuperare i video precedenti se non li ancora visti ma adesso basta parlare cominciamo un ragazzo in casa sua vive un evento paranormale davvero terrificante il giovane viene continuamente attaccato da un'entità invisibile col passare del tempo le cose sembrano migliorino in casa del ragazzo ma anzi le attività paranormali incominciano a peggiorare un bel giorno il ragazzo sente la presenza di qualcosa o qualcuno e incomincia a registrare il tutto col suo telefono questo è ciò che ha filmato ragazzo nonostante una forza invisibile prende per le gambe il povero ragazzo che viene trascinato da una stanza all'altra ad un certo punto si possono notare alcuni oggetti cadere da uno scaffale e come se lo spirito volesse dire a quel giovane vattene via questa è casa mia il prossimo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata in un salone di bellezza le immagini mostrano l'apparizione di una figura spettrale la stessa compare per pochi secondi per poi scomparire come se non ci fosse mai stata questo è ciò che è stato ripreso grazie a tutti un certo riccardo miraz ha ripreso uno strano fenomeno in cielo da filmato sinceramente non vi so dire se un meteorite o una cometa comunque lascio a voi l'ultima parola questo è ciò che è stato filmato grazie a tutti grazie a tutti Una donna sta riprendendo il suo cane mentre gioca. E proprio mentre lo sta filmando accade qualcosa di veramente spaventoso. Questo è ciò che è stato ripreso. Mentre la donna sta filmando il suo cane col telefono, sembra che è qualcosa di invisibile, afferri le zampe dell'animale e lo trascina via. Sinceramente io ne ho avuti due di cani, ma non ho mai visto un movimento simile da parte loro. Se ciò che è successo è operato in uno spirito, credo che quel cane non è al sicuro in quel posto. Un uomo sta riposando nella sua abitazione mentre si rilassa con gli occhi chiusi. Incomincia ad avvertire una sensazione di disagio ed è come se si sentisse osservato da qualcosa o qualcuno. L'uomo apre gli occhi e ciò che vede è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. L'uomo apre gli occhi e ciò che vede è stato filmato. L'ultimo filmato mostra una guardia di sicurezza mentre sta svolgendo il suo lavoro di notte e incomincia a sentire degli strani lamenti. La guardia decide di andare a controllare e allo stesso tempo filma tutto ciò che succede. E questo è ciò che ha filmato. C'è parte di questo? C'è parte di quello che c'è? E questo è? C'è parte di questo? C'è parte di quello che c'è? Usteri, YB F*** off Siamo arrivati al termine ragazzi Spero che i video vi siano piaciuti Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate E noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima Ciao Ciao